Giornata mondiale contro l'AIDS, oggi 6 dicembre siamo davanti alla facoltà, abbiamo due ragazzi della facoltà di economia, ti chiami? Francesco, ti chiami? Roberto, ragazzi io ho questi due oggetti in mano, non so se voi l'avete mai visto, lui l'ha visto? Lui non l'ha mai usato, non l'ha mai visto, vabbè questo qua è un gadget, viene distribuito per farvelo utilizzare e per farvi stare alla larga da tutte le malattie, voi sapete utilizzarlo? Ovviamente, lo sai utilizzare, quindi nel caso devi fare una prova la sai fare? Ci puoi mostrare? Perfetto, tu invece fa freddo, si tira indietro, allora ragazzi adesso facciamo una prova, una prova, un attimo, allora questa qua non si mangia per oggi, ma solo per oggi è buona da mangiare, ci sono questi due ragazzi che ce la fanno utilizzare in modo diverso, allora chi è che si propone di aprire il preservativo? Lui, perfetto, allora con calma, in maniera dettagliata, perfetto, c'è un diamantino all'interno, eccolo qua, la forma speciale di contro natura consente al massimo? eccolo qua, allora la banana, ragazzi la banana si mangia, non lo sai usare, mi dispiace, non è cosa tua, metti la banana, come si utilizza il preservativo? Come lo vuoi dire? Eh ma tu stai facendo aria, devi mantenere, devi piggere, alzate la banana, al contrario, non la fa usare, che devo fare? Ok dai, ha preso un po' manualità, ok, allora i ragazzi sono pratici, allora consegno un gadget per questa giornata che è un controllo a lui e uno aperto a lui perché già l'ha utilizzato. Siamo sempre qui a Monte Sant'Angelo e ci troviamo con? Antonio Genarelli. Antonio, questo è un oggetto a te familiare? Eh sì, come è bellino, ha nuova confezione questa diciamo. Sì sì, questa è una confezione ultimo modello, ci sai dire come si usa questo oggetto? Eh come sì, si apre ma mi credo, allora è già favore. Sì, dai adesso ci fai una dimostrazione pratica, grazie. Una dimostrazione. Ma veramente ho fatto fatto. Allora facci vedere come si apre. Questo è il, penso che tutti lo sanno, è un profilattico, serve giustamente per prevenire malattie e prevenire gravitanze indesiderate, giusto? Allora, quali malattie si possono prevenire grazie al presuppato? L'AIDS soprattutto, quindi apriamo. Perché la sto aprendo male? Si potrebbe rompere addirittura. La banana fa una poca impressione. ecco qua. Questo deve, vabbè, ci mi sto a controllare però. Ecco. Eh? Oh, che banana fa. E ora così sei coperto a vita. Complimenti al nostro Antonio, grazie, e questo è il tuo omaggio. Grazie a voi. Ciao, un saluto. Allora, siamo qui con? Riccardo Bruno. Ciao Riccardo. Senti, è la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS e noi distribuiamo preservativi gratis. Che ne pensi di questa iniziativa? No, sicuramente è importantissimo, anche perché è un problema, questo è l'AIDS. Usare il preservativo può salvare tante vite. Posso fare un saluto comunque? I miei amici non usano il preservativo, sono voi di là lì. E niente, un saluto a Piero, o meglio Fuglianella, Novi e Dario. Grazie, grazie, grazie. Allora, quando è stata l'ultima volta che ho usato un preservativo? Eh? Parecchio tempo fa. Sì, 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 sì. Eh? Tre mesi fa, sì, 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 sì. E niente, però lo usiamo sempre, lo usiamo sempre, questo è importante, questo è importante. Usi qualche altro metodo contraccettivo? No, 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 il preservativo e vado liscio. Senti, ci vuoi fare una dimostrazione pratica di come si usa il preservativo? Sì, se qualcuno vuoi dare un ombrello magari, qualche cosa... Ah, la parola! Ok, perfetto. Un attimo, sì, certamente, certamente, spiego subito. No, giustamente, l'informazione è la prima cosa, quindi... Allora, nel tutto si deve aprire, sono già dei problemi da aprirlo questo il preservativo, quindi proviamo ad aprirlo. Un attimo, un attimo, un attimo, una banana, mi scusi. Posso fare con i denti? No, con i denti no, si rompe. Ok. Estraiamo il preservativo dalla busta, metto qui. Apriamo il preservativo, attenzione, dalla parte giusta, se no si rompe, perché questo è importante. Eh, eh, si sono rotti parecchi, vedete, vedete. Anche perché poi il rischio è elevato di... Una volta estratto il preservativo, attenzione, dove sta la parte, ecco, teniamo premuto questo per non far passare l'aria e abbassiamo delicatamente sopra la banana, fin quando non è coperto tutto, fino ai genitali, perfetto. Ok, allora ti meriti due preservativi gratis. Ora ho parlato anche in maniera tecnica, ecco. Prego. Ah, grazie, grazie, grazie mille, grazie, grazie. Un saluto ancora, grazie. Ok, ciao! Grazie. Grazie a tutti.